a questo incontro su dove va il Brasile dopo la rielezione del presidente Lula. Abbiamo, come avete potuto tutti vedere, un bel ventaglio di ospiti dall'Italia e dal Brasile. Siamo lieti di ospitare alcuni fra i maggiori esperti su quel paese e in generale sull'America Latina. Il programma li ha presentati sinteticamente, tuttavia voglio nuovamente ringraziare il professor Vicente Trevas, presidente dell'Istituto AMSUR e consigliere della Fondazione Sociologia e Politica di Sao Paolo. È stato segretario per gli affari federali della Presidenza della Repubblica nel primo governo Lula. In un primo momento, come avrete visto, era prevista la partecipazione del dottor Alvarez dal Brasile. Il dottor Alvarez è membro dello staff del neopresidente Lula e impegni non previsti al momento della convocazione, dell'organizzazione dell'incontro e tuttavia impegni molto benvenuti perché legati alla elezione del presidente Lula non gli permettono oggi di essere qui e ci ha mandato un messaggio molto caldo di buon lavoro e sicuramente avremo opportunità nei prossimi mesi di lavorare insieme e scambiare idee, esperienze e anche iniziative. Abbiamo con noi diversi ospiti, come dicevo. Abbiamo l'onorevole Fabio Porta, eletto nella circoscrizione dell'America Meridionale e del membro del gruppo, del Partito Democratico, dico bene? Ecco, ero lì e dico, ma io la butto, ma ovviamente ero sicuro al 99%, e chiedo scusa ma la geografia parlamentare, per noi che veniamo da vecchi schemi dove uno era rosso, blu, bianco, è un po' a volte sfuggente, lieti quindi di avere l'onorevole Porta del gruppo del Partito Democratico, con una rappresentanza dell'America Meridionale che viene dalla precedente legislatura in cui invece era presente in qualità di senatore. abbiamo con noi il professor Luciano Vecchi, amico storico del nostro istituto, del CESPI e docente di letteratura brasiliana all'Università di Bologna e abbiamo il dottor Federico Nastasi da Rio de Janeiro, giornalista, ricercatore sui temi dello sviluppo in America Latina, collaboratore in diverse fasi di alcuni fra i principali istituti che si occupano dei problemi dell'economia, dello sviluppo e della politica in America Latina, fra cui la CEPAL, l'Istituto Italo Latinoamericano, collaboratore di varie attestate, fra cui il Paese e il Manifesto, e animatore di un podcast Macondo che viene gestito insieme all'Enciclopedia Treccani. Abbiamo inoltre, la cito per ultima, ma ovviamente qualcuno arriva alla fine, ma ultima non ultima, l'onorevole Marina Sereni, dirigente del Partito Democratico e già vice ministro degli esteri e della cooperazione internazionale e che abbiamo conosciuto in tante nostre iniziative, molto attiva sulle tematiche di America Latina e Caraibi. Ecco, questo è il quadro, l'idea che abbiamo è di avere un primo giro con i nostri amici, un primo passaggio per capire che cosa questa elezione significa rispetto alle dinamiche interne della società brasiliana, alle fratture profonde che lo attraversano e poi successivamente capire che cosa, pensare a che cosa questo cambio radicale di scenario e di colorazione del Brasile può determinare sul piano internazionale, ma in particolare per il contesto latino-americano. Ecco, fra il primo e il secondo giro apriremo la possibilità a qualche breve spunto domanda dal pubblico, molto molto brevi e ci raccomandiamo, vorremmo terminare questo webinar per le ore 18 italiane. La registrazione sarà come sempre disponibile sulla pagina Facebook del CESPI. Ecco, a questo punto io non direi altro se non ricordare che il primo tema è questo, in che modo si è schierata la società brasiliana in queste elezioni, cosa emerge dalla distribuzione geografica e sociale del voto e che cosa potrà fare il nuovo governo Lula per superare le fratture profonde. Abbiamo parlato della sfida di un di un Brasile finalmente coeso e a partire da quali politiche, da quali politiche, da quale parole d'ordine, da quali alleanze. Diamo per primo la parola al professor Trevas da Sao Paolo do Brasile. Prego professore. A circa 15 minuti di tempo, io non voglio assolutamente intervenire quando mancano 13 minuti, ognuno ha un orologio materiale o virtuale e si autogestisce. Grazie. Grazie. Cordiale saluti a tutti. Ringrazio il CESPI per l'invito a partecipare a questo importante dialogo sui Lula, la sfida per un Brasile coeso. Saluto Daniel Frigieri, direttore del CESPI, Dario Conato, responsabile del CESPI América Latina e Federico Nastasio. E un saluto especial al mio caro amica Marina Serene, al nostro brasilianista e companio Roberto Vecchio e al deputato Fabio Porta, che rappresenta la comunità italiana-brasiliana nel Parlamento italiano. Sono accompagnato dalla diretrice internazionale dell'Istituto AMSU, Cristina Sampaio, un partner estratégico nelle relazioni Brasile-Italia. Porto il saluto del mio amico e compagno César Alvarez, che in questo momento sta lavorando con il Presidente Lula e sicuramente participerà alla squadra di transizione. La elezione del Presidente Lula il 30 ottobre rappresenta un cambiamento politico, instituzionale, culturale, economico e geopolitico nella società brasiliana. La vittoria del Presidente Lula e la formazione di un nuovo governo il primo gennaio 2023 significano che è possibile interprendere un percorso democratico per superare il croce via, il crossroad, che la nazione brasiliana si trova a affrontare. Un croce via, un crossroad, prodotto del Coppo di Stato del 2007, che si è espresso con l'impeggio illegittimo, illegittimo e fraudolento della Presidente Dilma Rousset. Proseguito con l'operazione criminale Lava Jato, volta a criminalizzare il Partito del Laboratorio e il Presidente Lula. Seguito dalla condanna e dalla incarcerazione di Lula, approfondito dall'intervento delle forze armate che hanno interditato la candidatura di Lula nel 2018 e, infine, dall'elezione di Jair Bolsonaro. Questo processo golpista pianificato, articulato e gestito in Brasile e all'estero ha prodotto conseguenze disastrosi per la politica, la democrazia, la Repubblica, l'economia, le condizioni di vita e le standard di convivenza del popo brasiliano. Un Coppo di Stato di tipo nuovo, giudiziario, parlamentare e mediatico, ha rotto il parto politico nazionale in vigore della ridemocratizzazione e della Costituzione del 1988, ha destruturato lo Stato e ha dato vita a una tragedia politica concretizzata nella Presidenza Bolsonaro. La Presidenza Bolsonaro e il suo governo hanno agravato i malani della società, del della nostra società, ha approfondito la desigualzillanza e la exclusione sociale, la povertà, il racismo e le prejudizie. Ha intensificato le crisi sociale, ambientale, economiche, politiche e comportamentale. Ha accoraggiato una cultura politica di violenza e odio, autoritaria e di inspirazione fascista, che sta consolidando nel paese un feroce extremismo politico di destra. Una extrema destra ideologica, armata, finanziata, militante e articulata a livello internazionale. Una extrema destra, che è riuscita a riunire il ricorrente conservatorismo sociale e setore reaccionare della politica e della vita sociale. Una extrema destra, che manovra magistralmente una parte significativa della società brasiliana, attraverso la paura, la religione, la misoginia, l'antipetismo, l'anticomunismo, l'insegurança dei cittadini e le fake news. Una extrema destra, politicamente alimentata, da una guerra culturale e religiosa, gestita con e efficienza e potere nel rete sociale, nei culti religiosi, nel caserme, nell'organizzazione di polizia, nel mondo della fede e nel grande rete dei media. Come abbiamo detto inizialmente, le elezioni del presidente Lula sta già producendo un cambiamento nel processo di transizione politica in corso nel paese. In Brasile si è formato un ampio fronte politico, sociale e culturale a torno al presidente Lula. Un'aggregazione ampia, diversificata, generosa, contraddittoria e convergente di attori politici, sociali, economici, religiosi e culturali. Un'aggregazione. 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 il rafforzamento della società civile, delle sue instituzioni, dei movimenti sociali e della cittadinanza. Una arena politica che, per consolidarsi, dovrà aportare cambiamento nel sistema dei partiti e nel sistema statale. Un campo politico con futuro e esperanza e soprattutto credibilità. Un escareamento politico che sostiene il governo Lula. Non sarà un compito facile. Il governo Lula, come risultato della sua ampia, diversa e contraditore base politico-eleitorale, sarà nella sua composizione ministeriale e nel suo programma e progetto di governo un governo in permanente negoziazione e contesa. La sostenibilità e la stabilità di questa contigenza sono possibili grazie all'indiscutibile e legittima leadership del presidente e al sistema presidenziale della Repubblica Brasileana. Il presidente della Repubblica, eletto in questo contesto, dovrà assumere il ruolo di guida del processo di transizione politica, economica, sociale e geopolítica della società brasiliana. Il presidente Lula dovrà eserciare con fermezza e abilità il ruolo di leader, arbitro e interlocutore. Il suo stato di capo di Stato e capo del governo renderà possibile mediare le disputi tra il partito politico, il conflitto di interesse tra la burguesia, e la classe media e quella estipendiata, il popolo lavoratore in un contesto di cambiamento strutturale. Cambiamento nel mondo del lavoro, nel processo di accumulazione capitalista e del rentierismo, nella concentrazione della riqueza e nella riduzione del reddito di ampi settori della società. Al stesso tempo, il presidente Lula sarà un interlocutore determinante con i poteri del Stato per garantire la stabilità istituzionale, democràtica e repubblicana. Il presidente della Repubblica, in quanto leader della nazione, deve essere in grado di dialogare con i movimenti della cittadinanza, di interagire con le loro inqueste e desideri, e di cercare di realizzare una concertazione sociale e un partito politico per lo sviluppo del paese. Trovar, guidare il paese nel presente e proiettarlo nel futuro. Dare stabilità democratica al paese, ristabilire la sovrenità nazionale, reforzare la cittadinanza, riposizionare il ruolo del Stato nella conduzione della società, nel pato e nella formatazione di un generoso progetto di nazione, contribuire alla rarmonia tra il potere del Stato, reconstruire i meccanismi di coordinamento e cooperazione della federazione, e implementare la capacità del Stato nella tre sferi di governo, affermare l'interesse nazionale in un contesto geopolítico e geoconòmico instabile. Sono i sfide complessi che ricordano lucidità e intelligenza politica. Nella sua performance, il presidente Lula trova a affrontare la complexità dei sui compiti, soprattutto in questo momento storico di transizione verso un nuovo ciclo politico della società brasiliana. Una transizione che trova a elaborare i postimi prodotti della ruptura instituzionale, della anarchia statale e della minaccia senalata del presidente di sconfitto e della sua base politica e sociale. Defendere la Costituzione, rafforzare la Repubblica, la democracia e la federazione sono missioni essenziali e indispensabili che ricordano sensibilità, intuzione e strategia. richiedere una intelligenza politica per individuare e collegare le opportunità, identificare e gestire le vulnerabilità, monitorare e affrontare le minaccia interna e externa. Il Brasile ha la fortuna di avere un leadership eccezionale, un leadership politico consolidato, impregnato a difendere l'interesse popolare e nazionale, un leadership democratico attento al dialogo, alla comprensione e alla cooperazione. Questo asset politico è rilevante in un mondo che è privato di grande leadership, in grado di rilanciare un nuovo ordine internazionale. tuttavia, per essere realizzabili gli obiettivi che ho esposti, ricordano un dialogo internazionale coerente e sincero, un grado di patruire i programmi condivisi a beneficio dei nostri paesi e dell'umanità nel suo complesso. Grazie. Moltissime grazie, professor Trevas. Il quadro è davvero interessante, complesso e in italiano diremmo una sfida da far tremare i polsi. Lei ha ricordato, nelle sue parole, si rifletteva la difficoltà del quadro politico, indubbiamente la vittoria di Lula è stata certa, solida, ma insomma a fronte di un avversario che ha un consenso molto esteso e anche probabilmente superiore a quello che ci si aspettava e dall'altra parte vi è un Parlamento nei due rami in cui il PT è molto lontano da avere numeri rassicuranti e, come lei diceva, ogni passaggio dovrà essere poi una ricerca di consenso e quindi anche di mediazione. Senza aggiungere altro, do volentieri la parola all'On. Porta che ci darà il punto di vista di una comunità italiana che vive nell'America Latina, in particolare nel Sud America e in Brasile, e tutto ciò che la realtà brasiliana in questo momento può insegnare anche a noi che stiamo in Italia. Prego. Sì, grazie intanto al CESP in primo luogo, non soltanto per l'attenzione che ha sempre voluto dare alle questioni internazionali, ma in particolare direi a quelle dell'America Latina e del Brasile e anche per la tempestività, per il merito di organizzare questo dibattito a pochi giorni da un momento sicuramente storico, da un'elezione che si differenzia anche dalle altre che abbiamo avuto in Brasile, dalle stesse altre alle quali ha partecipato il presidente Lula, per alcuni elementi che vorrò brevemente qui riassumere. Saluto ovviamente gli altri relatori, sono tutti amici, compagni, persone che a vario titolo in questi anni hanno seguito da vicino le vicende del Brasile, dell'America Latina e quindi questo nostro grande interesse rispetto a un paese, ricordiamolo, dove vive la più grande comunità di italo discendenti al mondo, è una delle più grandi in Sud America e nel mondo in termini anche di italiani con cittadinanza. Ricordiamoci ovviamente che veniamo da un'elezione alla quale anche gli italiani all'estero hanno partecipato, che in qualche modo, come alcuni osservatori diretti, come Federico Anastasi, hanno potuto verificare, si è incrociata con certi elementi, insomma, di interesse, di criticità, con le elezioni brasiliane in particolare. Ma il primo dato che voglio ovviamente sottolineare, può apparire banale, ma credo che in questo caso il rispetto non sia assolutamente banale. Noi dobbiamo mettere in rilievo la grande vittoria non soltanto del presidente Lula, del suo vicepresidente Alchemin, ma della democrazia in Brasile. Una vittoria che rafforza la democrazia a partire dal suo sistema elettorale, che è stato riconosciuto, tra l'altro, anche a livello internazionale come uno dei più sicuri ed efficaci. Ecco, ricordiamo per chi non lo sapesse che in Brasile esiste un sistema di voto con urne elettroniche che, come abbiamo visto anche nel corso di uno scrutinio testa a testa, come è stato nel caso di quest'ultima elezione, ha consentito nel giro di poche ore di sapere chi fosse il presidente. Ecco, se facciamo il paragone con altri paesi altrettanto grandi, importanti, insomma, basta ricordare a quello che è successo o che succede nel corso di queste elezioni analoghe negli Stati Uniti. Il fatto quindi che il Brasile, e che nemmeno alla fine Bolsonaro, ecco, per entrare già nel merito, abbia avuto, nonostante lo avesse già preannunciato, elementi concreti per mettere in dubbio la bontà di un sistema elettorale che lui stesso cercava di diminare, nonostante fosse il presidente eletto in carica, è un dato che ci deve confortare. diceva, un'elezione storica, lo stesso Lula ha detto che questa, delle sei elezioni alle quali lui ha partecipato, dicendone tre e perdendone altre tante, era senza dubbio la più difficile, lo abbiamo notato tutti e ci sono ovviamente degli elementi anche qui molto specifici. E' la prima elezione, tra l'altro, in cui un presidente in carica non viene rieletto, anche questo un dato estremamente significativo, nonostante abbia fatto ricorso all'uso lecito e direi quasi ai limiti dell'illecità della macchina dello Stato, con quanto riguarda anche gli ausili, i finanziamenti che ha cercato di elargire con uso appunto spregiudicato anche dell'apparato dello Stato. Una vittoria, una vittoria importante, una vittoria alla quale, come abbiamo visto, Bolsonaro con fatica ha dovuto ammettere, anzi, in realtà, nonostante con un atteggiamento così un po' pilatesco, c'è stato un via libera alla transizione, anche su spinta, su consiglio, insomma, di qualcuno che ovviamente lo ha spinto a evitare atteggiamenti estremi, però sostanzialmente Bolsonaro ha ripetuto quel cliché di certa destra sovranista, ovviamente ispirandosi soprattutto a Trump negli Stati Uniti, che non accetta la democrazia se non quando questa dà la vittoria al leader di turno. Ovviamente una visione abbastanza strumentale della democrazia, che grida al complotto, che grida ai brogli quando non si vince. E in questo senso, purtroppo, Bolsonaro ha utilizzato in maniera massiccia, prima, durante e dopo le elezioni, le fake news, un sistema di falsificazione della realtà che continua ancora oggi. Chi vive in Brasile sa che le reti sociali sono inondate di notizie che a noi farebbero sorridere. Cioè che tra pochi giorni Lula sarà arrestato, che tra qualche ora il risultato sarà ribaltato perché verrà messo in galera il presidente del Tribunale Superiore elettorale e così via. Notizie che in questa meta realtà vengono quasi accettate passivamente da un gruppo di fanatici che segue il presidente Bolsonaro che si assomiglia più a una setta religiosa che non a un ceto politico elettorale. Detto questo, ecco, bisogna comunque enfatizzare un altro dato. Cioè questa elezione ci ha messo comunque di fronte a due fenomeni. Sicuramente il primo fenomeno, il grande fenomeno, il vincitore di queste elezioni è il presidente Lula che appunto ha la sua sesta elezione con una età anagrafica considerevole affrontando, e tutti abbiamo seguito, no? Le vicende del presidente Lula degli ultimi anni una vicenda assolutamente che avrebbe, insomma, ucciso politicamente chiunque altro è riuscito ad affrontare e a vincere un'elezione che probabilmente, se non sicuramente, nessun altro candidato avrebbe vinto se non lui. Quindi la carisma, il carisma, la perseveranza, la forza di Lula sono stati sicuramente un dato distintivo di queste elezioni. L'altro fenomeno, possiamo chiamarlo forse un antifenomeno, un controfenomeno, è lo stesso Bolsonaro. Ecco, anche qui pochi sanno che Bolsonaro non era, diciamo, un neofito della politica quando ha assunto, anche se con la sorpresa di tanti, la presidenza della Repubblica. era un deputato con diversi mandati parlamentari 27 anni in Parlamento senza che tanti se ne fossero accorti perché era quello che noi consideriamo un peones della politica improvvisamente diventa per una serie di motivi che forse andrebbero ancora approfonditi il leader di una destra radicale distruggendo, annientando qualsiasi altro tipo di opposizione al PT, al centrosinistra, a Lula e soprattutto trasforma il Brasile prima del collegamento diretto parlavamo del Brasile come il paese dell'uomo cordiale ecco, lo trasforma in un paese di odio razziale di odio traccetti sociali di odio all'interno di gruppi amicali o familiari di divisioni violente tra nord e sud ecco, in questo purtroppo c'entra anche un poco la conformazione così antropologica e anche demografica del Brasile dove la nostra collettività la collettività italiana è sicuramente concentrata in quelle zone del sud-est, del sud del Brasile dove Bolsonaro ha raggiunto il maggior numero dei suoi consensi ecco, se pensiamo che la campagna di Bolsonaro e dei suoi seguaci è stata tutta dettata dall'odio, dal razzismo dall'intolleranza, dall'omofobia queste percentuali così alte in questi stati dove è così grande la presenza italiana ovviamente ci deve fare riflettere anche se sociologicamente lo si può interpretare insomma come un fenomeno tipico di quella classe media di quella borghesia che una volta raggiunte determinati un determinato status cerca di preservare quello status magari tirando fuori di sé quella parte che probabilmente nessuno di noi chi vive in Brasile non solo avrebbe mai voluto vedere ecco, da questo punto di vista io credo che l'altro dato e anzi forse il dato sociologicamente più rilevante e credo che in questo caso sia più rilevante del dato politico è proprio la divisione la frammentazione se non la distruzione sociale operata nel Paese in questi anni dalla presidenza Bolsonaro ecco, basti pensare anche a come il presidente Bolsonaro si è atteggiato rispetto alla pandemia ecco, istigando continuamente la popolazione al sospetto alla sfiducia rispetto alle stesse istituzioni che il presidente della Repubblica doveva impersonificare e da questo punto di vista la sfida più grande che avrà oggi Lula è quella della pacificazione nazionale della riconciliazione nazionale il discorso che Lula ha fatto subito dopo le elezioni da questo punto di vista è stato molto chiaro deponiamo le armi ha detto Lula e credo che lo dicesse non soltanto metaforicamente ma anche fisicamente se è vero che sino al giorno prima delle elezioni una deputata del congresso federale ha cercato di di minacciare con arma alla mano un militante del partito del partito di Lula quindi questa credo che sia la sfida più difficile che ci aspetta nei prossimi mesi che aspetta nei prossimi anni il Brasile la ricostruzione di un sentimento di coesione nazionale addirittura la restituzione dei colori della bandiera brasiliana di quella famosa maglietta gialla che tutti torneremo ad ammirare ad apprezzare e forse anche attifare per i prossimi mondiali di calcio al sentimento nazionale perché di questa maglietta questi colori sono stati sostanzialmente espropriati e sono diventati come una clava dominio di una parte sola io credo che il presidente Lula abbia già chiara questa sfida l'altro elemento lo accennava il nostro moderatore è di carattere più politico cioè il presidente Lula il suo vice Alckmin avranno a che fare con un congresso a trazione fortemente bolsonarista questo diciamo subito che da un lato non è una novità cioè non è una novità che chi vince le elezioni in Brasile non possa contare su una maggioranza forte al congresso è stato anche oggetto di diversi dibattiti anche tra chi partecipa oggi a questa a questa conferenza e la mancanza di quella famosa riforma politica così come viene chiamata in Brasile che avrebbe dovuto introdurre degli elementi di governabilità al sistema presidenziale che invece ha a che fare con un Parlamento sempre molto frammentato questa secondo me sarà una sfida di Lula già in questi giorni la fase di transizione si sta occupando e da questo punto di vista la scelta di un vicepresidente come Altimine è stata molto intelligente perché è un uomo di dialogo un uomo di dialogo con il centro mi sembra che sia proprio notizia di poche ore fa che l'MDB che è il grosso partito storicamente di centro brasiliano è stato invitato a far parte dell'organizzazione di questa transizione e probabilmente entrerà anche a fare parte del governo attraendo ovviamente quelle forze di centro che potrebbero garantire stabilità a un governo che altrimenti avrebbe farebbe molta fatica gli ultimi due adesso le ultime due riflessioni riprendendo un po' l'introduzione anche alla conferenza di oggi ecco per per l'Italia e per il Sud America cosa rappresenta questa elezione ma ovviamente per noi che siamo storicamente amici non soltanto di Lula ma di tutto il movimento sindacale operaio della democrazia in senso allargato che è quella che poi si è ritrovata unita intorno al presidente Lula questa elezione ci dà non solo dei motivi di allegria di fiducia e di speranza ma anche di giusta riflessione anche per le sfide che ha la sinistra in Italia e in Europa è chiaro che la destra in Italia sperava dopo aver raggiunto il governo a seguito delle ultime elezioni di avere una sponda con la conferma di Bolsonaro io credo che era più la lega di Salvini ad avere questo rapporto è stato per lo meno in questi anni con il Brasile mi pare di capire anche dal primo messaggio del nostro primo ministro Meloni che l'orientamento del governo italiano sarà più pragmatico e come si conviene direi a un paese con potenzialità risorse e soprattutto ripeto con una grande collettività italiana come come il Brasile per il Sud America credo che questa sia una notizia straordinaria cioè la vittoria di Lula lo è anche per noi che guardiamo al rapporto e all'importanza del Sud America dell'America Latina con determinata attenzione perché è chiaro che per le dimensioni del Brasile ma anche per la carica carismatica e per la storia politica di Lula il Brasile tornerà a essere centrale e protagonista della scena politica sudamericana con un accento diverso ecco chi ha seguito il discorso di Lula avrà notato sicuramente la grande enfasi che il presidente ha dato alle questioni ambientali Marina Silva probabilmente sarà il ministro dell'ambiente Marina Silva era uscita con una certa polemica da un governo Lula di qualche di qualche tempo fa credo che la compagine internazionale i saluti di Macron il messaggio di Biden e ripeto le parole di Lula denotano questa attenzione grande che il governo Lula avrà rispetto alle tematiche ambientali questo da un certo punto di vista lo mette più in sintonia con il nuovo governo di Boric in Cile o di Petro in Colombia cioè con una sinistra latinoamericana una giovane sinistra ma della quale Lula vuole essere anche un nuovo riferimento più attenta alle tematiche ambientali e meno diciamo a quelle di un modello di sviluppo passato ovviamente c'è un ultimo tema che è un tema più brasiliano ma che noi dall'Italia noi come amici del Brasile abbiamo sempre posto e che credo che ci interesserà che è il futuro della democrazia e della sinistra in Brasile della sinistra più allargata della sinistra democratica del centro-sinistra di questo ampio fronte democratico dico questo perché concludendo dobbiamo avere tutti noi anche una diciamo dobbiamo avere presente questa grande evidenza perché se da una parte è vero che Lula sarebbe stato e questo è un dato positivo ma anche ci fa riflettere l'unico leader del centro-sinistra in grado di sconfiggere Bolsonaro e così e così è stato è anche vero che tantissimi elettori tanti elettori hanno votato questa volta Lula più in opposizione a Bolsonaro che non semplicemente ha sostegno del del presidente Lula ecco questo vuol dire che se è vero che a destra probabilmente o nel centro-destra ci sarà sicuramente una discussione nei prossimi mesi per capire se Bolsonaro avrà la capacità di essere l'unico vero leader alternativo a questo governo anche la grande alleanza democratica che con Lula e Alckmin ha vinto queste elezioni dovrà ragionare sul futuro non sul futuro della sinistra in Brasile sui nuovi leader e su come costruire un fronte che non sia soltanto una reazione a un presidente che andava eliminato politicamente e così è stato ma anche a costruire una prospettiva di futuro che vada al di là di questa brutta polarizzazione nella quale Bolsonaro ha ricacciato il Brasile e per adesso mi fermo grazie mille grazie una delle porte davvero molto interessanti anche gli elementi forniti come protagonista della politica italo-latinoamericana italo-brasiliana e riferimento anche all'orientamento di settori almeno delle comunità di origine italiana riferimento un po' preoccupato lei se ho capito bene insomma in sostanza sono emerse cose che hanno a che vedere con la collocazione sociale che ci piacerebbe prendersene un altro orientamento e questo mi ricorda una frase di Giorgio Gaber che diceva io non temo Berlusconi in sé temo Berlusconi in me erano altri momenti ma il senso è chiaro arrivano alcune questioni dal pubblico io le metto insieme ve le lancio così non è detto che chi prenderà adesso la parola debba rispondere però sono punti che di interesse riguardano da una parte il rischio se esiste comunque ancora un rischio di risposta violenta magari anche di settori delle forze armate o di altri settori delle istituzioni rispetto alla legittimità istituzionale del nuovo governo e della presidenza Lula tendenze che secondo alcuni potrebbero essere state in qualche modo compresse dalla situazione internazionale la guerra in Ucraina aver anacquato diciamo gettato un po' di acqua sul fuoco di eventuali tendenze autoritarie di questo genere ecco se questo è plausibile al di là dell'eccitazione diciamo così verbale movimentista di Bolsonaro nelle prime ore un'altra questione è in un quadro così come quello che finora è stato delineato quali potrebbero essere i compromessi o almeno le mediazioni i temi principali di eventuali mediazioni delle forze che sostengono Lula rispetto alle tendenze alle forze politiche di centro distanti in questo momento da Lula dal PT e dal suo schieramento ecco queste mi sembrano essere alcune questioni aggiuntive non aggiungo altro e do senz'altro la parola al professor Vecchi prego grazie grazie a tutti vorrei anch'io ringraziare il Cespi per questa iniziativa in particolare Daniele Friggeri e Dario Corato e saluto gli amici di questa di questo mosaico Zoom che sono appunto amici di vecchia data con sempre tante tante parole intorno al Brasile allora io vorrei soltanto cercare di dare diciamo qualche spunto analitico su una realtà che è in una fase di cangiante trasformazione cangiante e accelerata trasformazione ma in un qualche modo rispondo già anche al primo quesito che è stato che è stato posto io credo che queste elezioni siano state una prova del 9 della democrazia brasiliana cioè sono state un momento in cui la democrazia brasiliana dopo il 1985 la fida della dittatura la costituzione dell'88 e via dicendo ha dimostrato di non essere più una democrazia adolescente ma di essere una democrazia piena e matura perché ha superato credo in questi anni ha ragione Vicente quando dice che il 2016 è la data da considerare ha attraversato dopo il 2016 tali terremoti che credo una democrazia gracile non avrebbe superato quindi questo è un primo punto secondo me importante che spiega per quale motivo in un qualche modo si possa guardare all'orizzonte immediato anche con un certo ottimismo io credo che ci sono stati alcuni fattori che hanno determinato questa questa situazione la prima è che il secondo turno è stato un elemento di consolidamento democratico se ci fosse stata una vittoria del presidente Lula al primo turno come poteva essere lì credo ci sarebbe stato un contesto completamente diverso e un secondo turno con una differenza tutto sommato piccola per le dimensioni in gioco cioè due milioni di voti su un su appunto 108 milioni di votanti conferma quello che anche l'onorevole Porta diceva cioè che esiste anche una procedura elettorale che non può essere messa ideologicamente in discussione quindi questo credo sia il primo punto importante io vorrei però analiticamente un po' superare o anche ridimensionare quella che potrebbe sembrare una dicotomia presente in Brasile ossia una divisione che è geografica sociale culturale e storica questa all'apparenza è senz'altro lo stato delle cose se uno apre la cartina del Brasile con il risultato elettorale vede che ci sono il nord-est e il sud-est divisi però io qui inviterei a guardare anche c'è anche un'altra lettura che si può fare cioè ed è quella sociologica cioè Lula ha vinto dove il PIB il nostro PIL è più basso e Bolsonaro ha vinto dove è più alto Lula ha vinto dove la percentuale di scolarizzazione è più bassa e Bolsonaro ha vinto dove diciamo l'indice di sviluppo umano e la scolarizzazione sono più alti ecco secondo me queste sono letture un po' deformanti perché se noi zoomiamo un po' meglio vediamo che è vero che c'è una divisione apparente ma dentro questa divisione Lula ha avuto 12 milioni in più di voti nel nord-est Lula in una città come San Paolo che non è una città facile né dal punto di vista demografico né dal punto di vista sociologico né dal punto di vista politico però ha preso 7 milioni in più di Haddad nel 2018 cioè i fenomeni credono credo vadano visti veramente un po' dall'interno e questo secondo me aiuta ad andare oltre quella che è la dicotomia apparente di una divisione una polarizzazione Vicente diceva mi sono segnato i tre aggettivi appunto un paese diviso polarizzato e radicalizzato sicuramente però credo che la situazione attuale è tale che consente di guardare oltre anche queste fratture io infatti proporrei di capovolgere in un qualche modo la lettura convenzionale che viene fatta cioè di una una diciamo una una destra no che dove vale tutto dove tutto è possibile dove tutto è legittimo e invece valorizzerei la forza di resistenza del Brasile io credo questa è stata una grandissima prova di tenuta della capacità resistenziale di un paese che è stato per quattro anni lacerato dalle fake news di cui parlavamo da una ideologia negativista quasi nichilista a volte pensiamo alla gestione della della pandemia questo è un paese che ha una resistenza straordinaria come un paese che ha avuto una resistenza straordinaria nel nei 21 anni di dittatura militare cioè la resistenza in Brasile non è una categoria metafisica è un dato soprattutto sostenuto da moltissimi movimenti da moltissime forze sociali io qui segnalo i due oggetti che secondo me meritano un approfondimento quando ci sarà la possibilità di fare delle analisi vere non estemporanee come questa la prima è la guerra digitale nel secondo turno si sono scatenati tutti i fulmini della guerra digitale la sinistra ha retto la guerra digitale ha imparato a fare la guerra digitale ha risposto alla guerra digitale perché se non ci fosse stato questa barriera la destra avrebbe vinto e il secondo oggetto secondo me molto interessante è il tema delle donne le donne hanno avuto soprattutto tra il primo e il secondo turno e Lula è stato bravissimo da questo punto di vista però anche una figura come per esempio Simone Tebet dell'MDB è una figura che credo ci ha messo la faccia si è spesa questo è stato un dato importantissimo poi io credo che c'è stato un altro elemento che ha messo in sicurezza in un qualche modo la tenuta democratica che è stata la reazione internazionale questo è stato importantissimo io credo che diciamo gli Stati Uniti siano intervenuti subito perché il Brasile poteva essere il primo turno del trumpismo da un certo punto di vista non lo è stato e questo Biden credo abbia capito benissimo perché è stato tra i primi a congratularsi d'accordo quindi quella frase del discorso di Lula della notte della vittoria cioè now existent dois Brasile non esistono due Brasile io credo che sia appunto il progetto politico la lettura di un paese che è chiaro c'è una concessione come si diceva anche ai vinti che viene fatta di scuola ma credo che ci sia un elemento più importante cioè è il progetto politico non esistono i due Brasili della sociologia strutturalista degli anni 50 in Brasile il Brasile è uno deve ricostituirsi deve costituire la nazione che è stato sempre l'opera incompiuta della modernità della modernità brasiliana non è un caso che il termine che è ricorso più frequentemente penso a a Veja che non è una rivista tenera non è mai stata una rivista tenera diciamo gli ultimi tempi è cambiato e penso anche ad una bella copertina del del Corriere dell'UNESCO dove il termine che ricorre è quello di ricostruzione come diceva anche molto bene Fabio la ricostruzione è questa condizione che rende che rende che rende plausibile la diciamo il superamento della della dicotomia ecco il quadro politico poi 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 mi fermo perché ma in un qualche modo anche cercando di andare nella direzione della seconda della seconda domanda che Dario ha fatto io credo che ci sia stato dal mio punto di vista un elemento interessante credo che la reazione poi dei camionisti del blocco delle strade mostri che come dire la destra non crede all'opposizione costituzionale parlamentare perché è vero il primo turno ha consacrato un Parlamento che nettamente si è spostato a destra e e qui diciamo una reazione meno scomposta o forse più progettata avrebbe avuto un altro corso sicuramente un altro corso e questo secondo me mostra un aspetto che è anche un vantaggio da questo punto di vista cioè occorrerà e credo che Lula già lo abbia fatto sin dal primo minuto della elezione occorrerà distinguere dentro il blocco della destra perché non è un blocco granitico è un blocco anzi assolutamente eterogeneo dove ci sono dentro elementi chiaro di ideologia dura quell'ideologia negativa e negativista e negazionista della destra ma c'è dentro anche molto antipetismo c'è la paura del fantasma comunista che è una delle grandi fantasmagorie della storia culturale brasiliana c'è paura della ridistribuzione sociale della perdita dei privilegi ma è una destra che va decostruita il verbo decostruire l'ha reso famoso Bolsonaro proprio all'inizio del suo mandato in questo caso lo userei intelligentemente va decostruita questa destra e qui può nascere secondo me anche un movimento importante ricordiamoci lo diceva bene Fabio Porta ricordiamoci che Lula è un grandissimo negoziatore è un uomo di che sa concert usiamo il termine italiano che sa fare la concertazione sa comporre quello che è diviso e da questo punto di vista esiste io credo un movimento da fare ora che è quello di ampliare la base parlamentare sia alla Camera sia al Senato questo è possibile la notizia che l'MDB entrerebbe diciamo in un fronte ampio che può diventare più ampio è la prima ma ci sono molte altre forze politiche del centro non del central ma del centro che potrebbero entrare ci sono le elezioni del Presidente della Camera e del Senato a febbraio e credo che non sia un segnale casuale che il Presidente della Camera e il Presidente del Senato pur appartenendo al Presidente della Camera è il sovrano dell'orsamento secreto per intenderci di questo tema favoloso per chi guarda come me il Brasile da fuori ecco sono però due immediate reazioni positive e dialogiche che mostrano come il gioco si è aperto del resto per la fragilità costituzionale del sistema politico brasiliano attuale l'ago della bilancia in Brasile si sposta sempre verso i vincitori se c'è un Presidente abile nelle relazioni istituzionali può facilmente spostare l'asse e costruire una maggioranza che renda possibile anche emendamenti di ordine costituzionale quindi c'è un terreno apertissimo non è un terreno scontato è un terreno però che richiede una costruzione però abbiamo qui esprimo l'opinione personale il migliore dei ricostruttori che è in campo quindi credo che si debba guardare positivamente a questo credo ci sia una situazione economica difficilissima io adesso non entro in altre questioni che magari lasciamo ad altre domande veramente in un minuto sviluppo l'ultimo l'ultimo punto analitico perché non è soltanto diciamo la necessità di una di una ripresa dopo una pandemia dopo una guerra ancora in corso che ha fatto esplodere il costo delle energie eccetera eccetera ma ci sono anche diciamo io credo che questo momento mi fa piacere che nel gruppo di transizione ci siano veramente persone molto capaci perché questa transizione sarà difficile cioè l'eredità che il governo ora in carica lascerà al governo che si insedierà il primo gennaio sarà avvelenata e credo che le misure già prefigurate cioè l'ausilio Brasil non a 600 ma che ritorna a 400 reais Lula ha messo anche i 150 reais in più per ogni figlio la base dell'economia reale per il salario minimo su cui poi si strutturano tutte tutto il sistema salariale i tagli che sono stati fatti alla sanità con la farmacia popolare i tagli che sono stati fatti all'educazione con con il taglio dei servizi minimi di sostegno anche alimentare nelle scuole fanno capire che la sfida è grossa la sfida è grossa però come dire è una sfida che potenzialmente può realizzarsi e li può creare anche tutto quello sblocco di relazioni io credo che sia importante la vittoria di Lula anche per noi che stiamo nel mondo perché riposiziona cambia la geopolitica la radice ecco quindi credo che se Lula riuscirà e credo che abbia assolutamente la capacità e la lucidità per farlo a far ripartire il Brasile dopo ecco se c'è soltanto un'ultimissima cosa che posso dire è questa c'è un cambiamento secondo me fra fra l'attuale situazione e quella soprattutto all'indomani nel 2014 della elezione di Dilma Rousseff ossia nel progetto nazionale come diceva Vicente molto bene che è il tema forte a cui pensare sempre quando il PT arriva al potere diciamo le relazioni internazionali sono uno strumento di dinamizzazione del mercato interno del progetto nazionale qui è come se il rapporto si fosse quasi rovesciato cioè sono le relazioni esterne che in un qualche modo hanno reso possibile hanno consolidato questa come dire questa questa consistenza democratica del Brasile e ora si tratterà e Lula lo potrà fare perché ha delle teste straordinariamente intelligenti anche sul piano geopolitico dovrà ristrutturare appunto il rapporto che è diverso rispetto al 2014 fra progetto nazionale dentro un intorno internazionale questa credo sia la grande sfida grazie grazie professor vecchi di carne al fuoco a ogni giro ce n'è altra ancora e quindi diciamo invitiamo poi i nostri amici che ci ascoltano abbiamo oltre 40 collegamenti a approfondire noi come CESP indicheremo anche possibili letture e anche iniziative di scambio su questo nelle domande che appaiono c'è anche un riferimento alla possibile ricostruzione di un rapporto delle istituzioni brasiliane con le organizzazioni indigene che non è stato toccato non sto chiedendo al prossimo interveniente il prossimo intervento di affrontare il tema però è una questione ultimissima cosa tutto interessante avete notato non interrompo nessuno il tempo è ben gestito dopo mi piacerebbe dare un ultimo spazio ai nostri relatori sulla questione più specifica delle relazioni con il resto dell'America Latina quindi i relatori che possono rimanere qualche minuto in più qualcuno l'ha toccato il tema l'ha toccato l'onorevole Porta però ecco ci piacerebbe non lasciare in evasa questa pratica e adesso senza altro tempo continuare a togliere do la parola al dottor Nastasi prego Federico grazie Dario Conato grazie al CESPI per l'invito ai colleghi relatori a chi ci ascolta sono già state dette molte cose proverò a concentrarmi su alcuni aspetti in particolare a dialogare mi permetto di dialogare direttamente con il professor Vecchi che conosce benissimo il Brasile paese in cui io mi trovo sono qui da qualche mese l'ho seguito per scrivere per la stampa italiana ho fatto diversi reportage sulle elezioni ed ero la notte del domenica 30 ottobre ho ascoltato in diretta il discorso di Lula a San Paolo in cui appunto diceva non ci sono due Brasile è certo che questo è un progetto politico ma la sensazione di molti sicuramente la mia ma non credo di essere stato il solo quella notte è che dietro quell'affermazione di Lula dietro quella negazione non ci sono due Brasile in realtà si nascondesse una verità ci sono due paesi lui lo sa bene il fatto che quello sia un progetto politico significa che l'obiettivo è ricostruire il paese i risultati lo mostrano ho appena stato ricordato due milioni di voti di differenza 50.8 al vincitore 49.1 allo sconfitto a Bolsonaro e i risultati sono quelli di un paese estremamente polarizzato è vero diceva vecchi diciamo se zoomiamo nelle aree geografiche è vero che Lula ha stravinto nel nord-est ha vinto nella città di San Paolo nella metropoli però è anche e ha recuperato nel sud-est negli stati più ricchi dove il PIL è più alto dove c'è una popolazione bianca maggiore rispetto alla popolazione afrodiscendente del nord-est ma esistono è anche vero che esistono delle fratture a livello geografico evidenti anche delle transizioni interessanti ci sono alcuni stati che storicamente negli anni 90 inizio anni 2000 votavano per la sinistra penso a Rio Grande e poi passano con la destra in questa fase c'è una differenza di voto di genere le donne tendenzialmente votano per Lula la popolazione afrodiscendente vota per Lula la chiave religiosa è una variabile interessante per studiare il voto per Bolsonaro si stima che circa il 65% degli evangelici della grande famiglia evangelica non parlo solo dei neopentecostali abbiano votato per Bolsonaro la maggioranza dei cattolici per Lula quindi diciamo secondo me ci sono anche facendo questo zoom a livello geografico a livello di classi a livello culturale ci sono delle fratture profonde nel Brasile e riprendo una parola che utilizzava il dottor Trevas all'inizio quella di guerra culturale è una cosa che io ho sentito molto da quando sono arrivato in Brasile ed è utilizzata da entrambe le parti soprattutto da Bolsonaro e dai sostenitori di Bolsonaro quindi l'idea che non si trattasse solamente di un'elezione ma che ci fosse in gioco un modello di convivenza un patto un patto sociale guerra culturale significa mettere in in discussione i valori profondi per i quali si sta assieme la valutazione che si dà ad alcuni ad alcuni aspetti del vivere civile per esempio al ruolo della donna o per esempio questa è una cosa che ho sentito spesso con negli atti a favore di Bolsonaro o intervistando i sostenitori di Bolsonaro una specie di bottone magico che preme il discorso bolsonarista e accende le paure i pregiudizi che è quello dell'ideologia di genere l'ideologia gender credo si dica in Italia attorno a questo discorso si scatenano gli spiriti animali di una parte della popolazione brasiliana che si riunisce che viene convocata e si riunisce attorno al discorso di Bolsonaro l'altra cosa interessante e credo riguardi questo probabilmente tutta la destra tutta la destra latinoamericana l'america latina in generale questa grande polarizzazione coloro che non hanno votato per Lula lo diceva Fabio Porta rispetto a Bolsonaro coloro che hanno votato non hanno votato Bolsonaro non lo hanno fatto perché hanno votato Lula per convinzione ma perché non votevano votare Bolsonaro bene secondo me vale anche il discorso al contrario cioè coloro che non hanno hanno votato Bolsonaro una parte di questi non lo ha votato semplicemente per convinzione ma per un voto contrario al presidente Lula a quello che ha vinto le elezioni per una parte della popolazione brasiliana il presidente attuale non è semplicemente il candidato del PT è un criminale è un ladro è un diavolo viene definito così da una parte importante della popolazione quindi tutto questo discorso chiaramente è stato alimentato dall'alto dal vertice dallo stesso presidente Bolsonaro qui secondo me c'è un aspetto che è interessante notare che è una dinamica simile a quella che si è verificata negli Stati Uniti con l'elezione di Trump cioè una radicalizzazione della destra la destra brasiliana oggi non è la destra degli anni 90 del PSDB una destra moderata diciamo istituzionale quindi Bolsonaro è riuscito in una doppia operazione a radicalizzare il discorso pubblico l'opinione pubblica e radicalizzare anche una parte della classe della classe politica ed esistono queste due queste due anime che lo hanno sostenuto durante gli anni di governo quindi diciamo una parte più radicale che sono coloro che hanno organizzato i blocchi stradali che continuano a organizzare le manifestazioni qui a Rio de Janeiro dove mi trovo adesso proprio ieri domenica ci sono state ancora manifestazioni di persone che disconoscono il risultato che manifestano contro il risultato delle urne e poi una parte più moderata che sono le figure che venivano citate prima quindi il presidente della Camera Lira ma anche alcuni governatori bolsonaristi come quello dello Stato di San Paolo o di Rio de Janeiro che invece vogliono guardare avanti Bolsonaro è riuscito nei quattro anni di governo a tenere assieme queste due anime a farle convivere adesso nella fase di opposizione sarà sarà più difficile però io credo che diciamo è importante per capire cosa sta avvenendo oggi in Brasile capire come questo fenomeno è nato come è nato il bolsonarismo e come come si alimenta questo aspetto delle guerre culturali credo sia fondamentale perché in questa trasformazione della destra brasiliana credo americana in parte parte degli Stati Uniti arriva in America Latina viene la trasformazione della della destra avviene a partire da una trasformazione culturale c'è la convinzione che la politica discenda dalla cultura quindi prima bisogna cambiare i punti di vista prima bisogna cambiare la cultura in questo diciamo la destra brasiliana ha un suo architetto come viene definito questa figura di Olavo de Carvaio che è un punto di riferimento per molti bolsonaristi che forse come bolsonaro all'inizio nessuno prendeva particolarmente sul serio ma ha avuto un effetto nella formazione di quella che oggi è la classe dirigente bolsonarista i deputati i senatori alcuni giornalisti che si abbeverano al suo verbo fabio porta prima ricordava un aspetto che sembra diciamo che può sembrare appena di costume ma credo che non lo sia quello della maglietta brasiliana o della bandiera questo ruba bandiera a cui ha giocato Bolsonaro il fatto che oggi andare in giro con una maglietta brasiliana della verde oro della nazionale o della o la bandiera indichi aderire al al bolsonarismo ma questo forse è il simbolo più chiaro di quello che di questa trasformazione di questo di questo cambiare la cultura e dalla cultura discende la politica appropriarsi dei dei simboli questa secondo me è la una delle sfide principali che avrà di fronte a sé Lula che certamente è il migliore dei negoziatori possibili il politico più sapiente che di cui dispone la la sinistra brasiliana l'unico che poteva vincere queste queste elezioni però la differenza con il passato è che è un altro Brasile che c'è una parte di Brasile che la sua vittoria non la riconoscio mi sembra interessante sottolineare che le manifestazioni nelle piazze dopo il risultato del 30 di ottobre contestano il risultato elettorale senza presentare nessuna prova quindi diciamo c'è una dissociazione cognitiva un cambio del livello del discorso per cui non si contestano i brogli come si supponeva all'inizio questa democrazia matura di cui di cui parlava vecchio il sistema retto non ci sono prove di brogli il voto elettronico ha funzionato nonostante tutto questo c'è una parte della popolazione che protesta contro risultati e chiede l'intervento delle forze armate ed è una parte non piccola ora non sarà il 49.1 non sarà la metà del paese ma c'è una parte di popolazione brasiliana che è disposta a seguire il discorso bolsonarista fino alle estreme conseguenze forse non avrà spazi perché il sistema istituzionale regge perché c'è una parte della destra brasiliana che si è già detta disposta nel dialogare con Lula anche il partito repubblicano alcuni partiti del Centrao hanno proprio oggi hanno detto che sono disposti a governare però è una parte di cui è importante tener conto per considerare come funziona la politica in Brasile oggi c'è un aspetto che mi sembra interessante sottolineare soprattutto dall'Italia che magari si conosce meno ovvero l'utilizzo in questa guerra culturale in questa trasformazione della società brasiliana quanto sono state importanti la tecnologia e lo smartphone il Brasile è il secondo paese al mondo credo dopo l'Indonesia con il mercato più ampio degli utenti di Facebook sono circa 140 milioni oggi tutti coloro che conoscono il Brasile sanno che è impossibile fare politica fare una campagna elettorale senza utilizzare Whatsapp è una cosa che in Italia non si usa così tanto su questi gruppi su questi gruppi Whatsapp Telegram ma anche Youtube e Facebook Bolsonaro è riuscito nel corso non solo dei quattro anni della presidenza ma già prima dal 2016 a costruire un universo parallelo un racconto parallelo rispetto a quello che fanno che fanno i media ufficiali e questo fa sì che oggi ci siano persone appunto che anche queste manifestazioni che vengono convocate che sono state convocate non erano convocate all'inizio almeno sui sui canali ufficiali ciò nonostante riunivano migliaia migliaia di persone c'è un un'ingegneria del caos che accompagna queste queste forze e su questo io credo da un punto di vista tecnico quantomeno il bolsonarismo continua a essere più forte è vero la sinistra ha retto è vero la sinistra ha reagito ma da quel che io ho potuto vedere le interviste che ho fatto di persone che si occupano di tecnologia di marketing politico come si chiama in Brasile mi sembra che ci sia ancora una diciamo che la sinistra ancora è un po' all'età del del ferro sull'utilizzo della tecnologia mentre la destra mi sembra che stia un passo un passo più avanti e su questo può essere interessante anche sottolineare che c'è un dibattito nella sinistra brasiliana su come utilizzare la come partecipare al gioco democratico sui social network se utilizzare le fake news o non farlo c'è un dibattito quasi che un po' che divide le acque c'è una parte della sinistra che pensa che si debba utilizzare si debbano utilizzare le stesse armi del bolsonarismo ci sono anche i commenti di primo piano della sinistra del pettè che usano le stesse le stesse armi penso al deputato di Minas Gerais Andrea Gianones che ha utilizzato in varie in varie occasioni proprio nel secondo turno quelle stesse armi e una parte della sinistra invece che pensa che si debbano smentire le fake news e ricondurre il gioco democratico nello spazio della verità è un dibattito aperto cioè non è ancora una non si è ancora trovata una soluzione a questo a me sembra che il rischio di accettare le regole questa appunto è una mia opinione personale accettare le regole del gioco sulle fake news può servire nel vincere una battaglia politica nel breve periodo ma nel lungo periodo può spingere una democrazia verso l'avviso che è più o meno quello che è successo nei quattro anni nei quattro anni di Bolsonaro le due sfide principali di Lula Federico Scuda non l'ho fatto finora con nessuno però ti devo chiedere a sì bene chiudo solamente su questo la sfida principale di Lula credo sia proprio questa cioè come far fare la pace al paese e d'altro canto anche aprire un spazi spazi nuovi per la sinistra per la sinistra brasiliana è l'unico Lula che avrebbe potuto vincere questo l'hanno detto tutti è la verità però questo rivela anche una debolezza una dipendenza rispetto a una sola persona di un campo democratico quindi queste credo siano i due interrogativi per i prossimi anni del Brasile grazie benissimo grazie Federico interrogativi che ovviamente seguiremo con grande attenzione ed eventualmente ci confronteremo anche su come andranno avanti le possibili risposte Marina Sereni in tutto questo quadro a noi dall'Italia e dell'Europa che cosa viene in mente cosa cambia qualcuno nelle domande diceva e adesso per esempio sul Mercosur sull'accordo di associazione Unione Europea Mercosur qualche passo avanti si farà e in generale come ci collochiamo in questo mondo multipolare che tuttavia tanto multipolare non riesce ancora ad essere grazie la stessa Marina il microfono Marina il microfono mentre Marina mette il microfono solo una domanda io ogni tanto Federico lo sentivo disturbato l'audio anche voi o è il mio i colleghi forse la connessione che non è fortissima la sua voi anche sentivate qualche disturbo piccolo prima non disturbo ma un andare e venire ma anche durante il discorso di Roberto Vecchi benissimo per sapere se devo preoccuparmi io per la mia connessione prego Marina non credo allora ringrazio anch'io il Cespe ringrazio Daniele Frigeri Donato Corato per questo incontro saluto anch'io tutti gli altri relatori un abbraccio fraterno a Vicente Treves e a Cristina Sampaio prima di rispondere alla domanda più puntuale che ha fatto il nostro moderatore che abbiamo perso mi avete perso perché mi sono tolta l'audio da sola non so come ho fatto forse perché avevo i fogliettini sopra il mouse non so che cosa si è sentito i saluti i ringraziamenti si sono sentiti ok dicevo prima di rispondere alla domanda più specifica del moderatore consentitemi di fare un qualche reazione a quello che ho ascoltato intanto interessantissimo ringrazio davvero tutti perché è stato uno di quei webinar in cui si imparano tante cose questo è importante tre considerazioni molto molto sintetiche anche un po' rozze io sono molto d'accordo l'ha detto Roberto Vecchi ma lo voglio risottolineare la democrazia brasiliana esce da questa prova lunga difficile più forte mostra una grande resilienza più più resiliente di quanto si potesse temere in qualche modo ci sono stati anche nella vicenda giudiziaria terribile che ha coinvolto Lula però ci sono stati pesi e contrappesi e ci sono state come dire delle risposte istituzionali nonostante le tante forzature tentate dalla destra ora credo che sia molto importante avere presente che sta iniziando una transizione ed è molto importante capire come questa transizione si svilupperà ci sono ancora un po' di tempo il presidente Lula prenderà possesso della sua carica il primo di gennaio ancora oggi ci sono stati episodi di violenza per le strade c'è una transizione che è molto importante ed è molto importante che sia pacifica che sia ordinata che consenta di dare effettivamente la dimostrazione che la democrazia brasiliana è matura è forte e ha saputo in qualche modo respingere anche tentazioni antidemocratiche e autoritarie la seconda considerazione la faccio su Lula Lula è una personalità straordinaria perché dopo 580 giorni di carcere di prigionia e dopo tutte le sue vicissitudini non era facile mettersi per questa campagna elettorale mettersi in questa mettere tutta la sua energia in questa campagna elettorale è un grande punto di forza però lo dico agli amici del PT è anche un punto di criticità perché senza Lula non si sarebbe potuto vincere e io penso che questo una grande forza popolare di sinistra debba avere presente che c'è bisogno anche di costruire diciamo così una squadra più ampia più larga che guardi al futuro terza questione il borzonalismo è un fenomeno profondo penso che noi della sinistra diciamo così sbagliamo a chiuderci dentro a un recinto solo brasiliano il borzonalismo è un fenomeno profondo nella società brasiliana lo avete descritto molto meglio di quanto potrei farlo io così come il trumpismo è un fenomeno molto profondo nella società americana questa mutazione della destra che diventa una destra estrema e in qualche modo diciamo mette all'angolo la destra conservatrice moderata tradizionale io credo che sia un fenomeno molto più ampio molto più profondo nella società nelle società contemporanee e credo che sia importante avere presente che questa è una non finisce con la sconfitta di Bolsonaro così come negli Stati Uniti non è finita con la sconfitta di Trump e la vittoria di Biden l'enorme sfida a cui tutti avete fatto riferimento cioè quella di Lula quella su cui molto consapevolmente Lula ha puntato chiaramente le parole dell'immediata vittoria non esistono due in Brasile esistono un unico popolo una grande nazione beh riunificare il paese ricomporre questa frattura così drammatica così profonda non può essere fatto solo da Lula e solo dal governo io penso che noi eh l'analisi che che ho sentito è molto importante è fondamentale ovviamente il ruolo del presidente Lula ha la sua capacità di mediatore sono state molto interessanti le parole di Vicente quando dice un capo di state e di governo in grado di mediare tra gli interessi garantire stabilità dialogare con i movimenti costruire la concertazione sociale è tutto molto vero ma c'è bisogno che altri soggetti assumano questo obiettivo di riunificare il paese non basta il presidente Lula c'è bisogno della politica c'è bisogno dell'economia cioè c'è bisogno che gli attori economici in qualche misura condividano questa esigenza c'è bisogno che gli stessi movimenti sociali colgano questa esigenza colgano l'esigenza cioè di pacificare di chiudere diciamo una stagione è difficile chiudere una stagione come quella che abbiamo visto in questi ultimi anni in Brasile ma comunque si può ridurre questa frattura e si possono portare pezzi che come dire pure alla fine hanno votato per Bolsonaro ad avere un atteggiamento meno di contrapposizione e meno di odio nei confronti di chi ha vinto le elezioni questo mi fa dire anche che il governo Lula dovrà fare un miracolo nel tentare di rendere compatibili l'obiettivo fondamentale di ridurre la povertà di ridurre nuovamente la fame cioè di tornare a lottare contro le diseguaglianze quindi ottenendo dei risultati molto concreti la parte più in difficoltà della popolazione brasiliana ma contemporaneamente dovrà rassicurare l'economia dovrà cercare di avere e questo miracolo è stato possibile nel primo governo Lula è stato faticoso ma comunque arretto nel secondo governo Lula è entrato in crisi diciamo così si è rotto qualcosa nella vicenda del governo di Dilma e poi nelle vicende che qui sono state ricordate dell'impeachment perché dico questo dico questo perché al fondo di queste difficoltà di questa sfida enorme che si trova davanti il presidente Lula credo che ci sia l'esigenza delle riforme non basterà governare non basterà distribuire non basterà scommettere diciamo sulla capacità di redistribuire una ricchezza che pure c'è credo che ci sia bisogno di fare delle riforme dalla riforma fiscale che deve essere una riforma moderatamente progressista alle riforme politiche si trova il presidente Lula di nuovo un parlamento con una ventina di partiti e nonostante che ci siano dei segnali importanti è stato citato il PMD oggi mi pare di aver letto in un'agenzia che il partito social democratico ha annunciato l'appoggio esterno al governo Lula quindi ci sono segnali di disponibilità da alcune forze politiche però io penso che uno dei punti di fragilità del sistema politico brasiliano che è quello della enorme frantumazione politica e della difficoltà per il presidente eletto di avere una maggioranza in Parlamento e quindi la necessità di dover negoziare su ogni piccolo passaggio credo che questo sia anche un tema da affrontare con delle riforme chiudo questa parentesi vado alla domanda molto rapida che molto rapidamente che mi ha fatto donato l'Europa e l'Italia che cosa possono aspettarsi ho visto tra le domande ce n'è una che dice si può immaginare che si acceleri con l'accordo UE-Mercosur direi proprio di sì l'accordo UE-Mercosur è fermo perché c'è una opinione diversa tra l'Unione Europea e il Brasile di Bolsonaro sulle questioni ambientali dopo la lotta alla povertà la seconda priorità molto chiara che Lula ha diciamo scolpito nell'immediata vittoria nelle ore immediatamente dopo la vittoria è stata quella del stop del blocco alla deforestazione e della protezione dell'Amazzonia questo significa tornare ad essere un interlocutore affidabile nei confronti dell'Europa e nei confronti del resto della comunità internazionale in queste ore si sta svolgendo la COP27 in Egitto per la comunità internazionale e per l'Europa è fondamentale questo quindi io penso che la prima questione che si potrà diciamo cominciare a a vedere come cambiamento è la ripresa di una possibile collaborazione forte collaborazione tra l'Europa il Mercosur sbloccando questo accordo che è fermo da molto tempo c'è bisogno anche di un dialogo politico la seconda questione che vedo io in termini è stato detto è un cambiamento geopolitico il Brasile è un gigante in America Latina confina con quasi tutti i paesi dell'America Latina meno due quindi è davvero diciamo un gran parte del continente sudamericano penso che sia fondamentale che il Brasile recuperi una sua capacità di iniziativa internazionale sui temi globali cosa che oggettivamente in questi anni con il governo Bolsonaro con il presidente Bolsonaro è mancata dall'atteggiamento sulla pandemia fino ad arrivare alle questioni dell'Amazzonia l'atteggiamento del governo presieduto da Bolsonaro è stato un atteggiamento particolarmente complicato per il dialogo nella comunità internazionale e in particolar modo per il dialogo con l'Europa quindi oltre all'accordo UE Mercosur io mi auguro e penso che sia possibile avere un governo Lula un presidente Lula che torna a scommettere sul Brasile come attore globale Brasile come attore globale un Brasile che è parte dei BRICS un Brasile che dovrà fare i conti con le contraddizioni che è aperto non voglio aprire questo fronte ma è certamente molto importante che ha aperto l'aggressione russa in Ucraina nella comunità internazionale questa frattura questa rottura sarà una rottura che tende a rimanere tuttavia io penso che il Brasile possa per la sua tradizione per la sua capacità diplomatica per la sua storia possa tornare ad essere con Lula presidente un attore globale in senso positivo affrontando le grandi questioni globali dalla fame la povertà l'ambiente fino ai temi della pace e dello sviluppo appunto possa tornare a dare un contributo fondamentale voi sapete che c'è un dossier che ci divide tra Italia e Brasile che è esattamente la riforma del consiglio di sicurezza ma al di là di questo ci unisce invece una convinzione che solo il multilateralismo possa dare risposte ai grandi problemi del mondo e quindi un Brasile di nuovo ingaggiato di nuovo impegnato sul versante del multilateralismo ci dovrebbe aiutare ci può aiutare ad evitare che la guerra in Ucraina possa diventare la guerra dell'Occidente verso tutto il resto del mondo non è la nostra interpretazione non conviene a nessuno questa interpretazione se non a Putin che trova dentro a questa interpretazione una sua giustificazione ideologica l'Italia in Italia oggi c'è un governo di segno diverso da quello progressista diciamo così del governo che arriverà in Brasile dal primo gennaio che si insedierà in Brasile dal primo gennaio del 2023 non penso però e qui sono d'accordo con Fabio Porta non penso che l'Italia abbia interesse a esaltare questa differenza politica penso che l'Italia anche il nuovo governo italiano abbia tutto l'interesse a non consentire a questa differenza politica diciamo di essere d'ostacolo perché Italia e Brasile sono uniti da legami molto profondi che come dire trascendono diciamo le coalizioni politiche del momento le contingenze politiche abbiamo una storia diciamo molto intrecciata abbiamo grandi e medie aziende italiane che ormai da decenni lavorano in quel paese siamo diciamo rappresentati da una comunità italo-brasiliana molto integrata anche politicamente molto integrata quindi integrata nella in economia nella cultura nella vita di ogni giorno ma anche nel sistema politico brasiliano basta scorrere i nomi diciamo degli eletti in Parlamento nella Camera e nel Senato brasiliano per cogliere questo dato e quindi io penso che se Lula come io immagino sceglierà di tornare ad investire su un Brasile che parla al mondo non gli sfuggirà l'amicizia di cui gode il suo paese in Italia e sarà un modo per rilanciare i rapporti che onestamente negli ultimi anni diciamo anche a causa della pandemia non hanno avuto un grande diciamo non hanno espresso tutte le potenzialità che potevano esprimere ultima cosa così non riprendo più la parola America Latina beh l'America Latina in questo momento c'è un vento di progressista hanno vinto forze progressiste in quasi tutti i grandi paesi dell'America Latina non vorrei che noi passassimo ad una semplificazione non sono tutte uguali le sinistre in America Latina ecco io penso che dobbiamo avere presente e in questo senso Lula può essere diciamo così un protagonista di una riflessione nuova nel campo progressista anche sulla base delle alleanze che è stato in grado di fare per vincere questa partita perché questa volta la scelta del vicepresidente e i rapporti che ha saputo costruire con altri con altri pezzi del mondo progressista brasiliano dimostrano che c'è una grande consapevolezza della necessità di unire le forze progressiste perché certo deve dialogare anche con le forze moderate ma intanto il primo passaggio è unire le forze progressiste e saper fare diciamo un ragionamento non solo di sinistra ma di centro-sinistra più ampio per poter che è stata la carta che ha consentito a Lula di vincere in questa battaglia così difficile in America Latina ci sono due sinistre forse anche tre ce n'è una più populista ce n'è una più pragmatica e moderata e forse c'è anche qualcuno che si definisce di sinistra ma ha un tratto autoritario che a noi non piace quindi penso che il contributo che Lula potrà dare alla definizione alla costruzione di una visione unitaria della sinistra del centro-sinistra delle forze progressiste latino-americane sia molto importante e sia anche molto importante per i progressisti in Europa e nel resto del mondo grazie 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 Marina nell'ultimo certo anche per l'Italia e l'Europa quali che siano i governi si apre una si aprono prospettive molto prospettive nuove diciamo rispetto al Brasile come l'abbiamo conosciuto in questi anni vorrei solo ricordare che il 27 ottobre scorso a Buenos Aires c'è stato l'incontro fra i ministri degli esteri dell'Unione Europea e quelli della SELAC cioè della comunità degli stati latino-americani di Caraibi che è il più grande consesso di dialogo più che altro diciamo fra i paesi della regione e lì tutti si aspettano che rientri rapidamente il Brasile di Lula dopo che Bolsonaro ne aveva provocato l'allantanamento da alcuni anni quindi è chiaro che lì proprio il ruolo il Brasile se non se lo prende lui glielo danno gli altri un ruolo diciamo così di train di innovazione ora l'ultimo tema che io a questo punto chi vuole dire alzi la mano insomma possiamo farlo anche in maniera meno rigida che dare la parola primo, secondo, terzo ma è quello del rapporto con la sinistra latino-americana che ha le caratteristiche che qui accennava Marina ora è vero che c'è un vento per le coalizioni progressiste dalla Colombia al Cile al Brasile ovviamente e così via è anche vero che alcuni leader latino-americani in particolare Boric e Darcila hanno posto una questione di scelta definitiva di campo di una sinistra latino-americana dalla parte dello Stato diritto e dei diritti umani non è così ovunque si è ricordato e anche esperienze passate diciamo non hanno lasciato buoni ricordi e nella sinistra latino-americana nel suo complesso e nell'elettorato quindi non solo i tre paesi continuamente citati Cuba, Venezuela e Nicaragua ma pensiamo anche a certi tratti dei governi dell'Equador e della stessa Bolivia di Morales allora sappiamo che in Brasile un'arma utilizzata da Bolsonaro nella polemica politica contro Lula è stata l'amicizia almeno passata con Ortega la verità è che diciamo all'elettorato brasiliano di quello che avviene in Nicaragua penso importi pochissimo ma importa invece la proposizione del possibile vincitore oggi vincitore delle elezioni come un personaggio vicino a una sinistra autoritaria dogmatica e con caratteristiche più che dogmatica autoritaria insomma come quella richiamata ecco allora in questo dibattito che ormai è continentale non riguarda neanche tanto solo le forze politiche ma anche la concezione della democrazia visto che tante di queste forze saranno andate al potere il PT in questo momento come si colloca è possibile che acquisti che diventi diciamo un alleato nei ragionamenti portati avanti da Boric ma a suo tempo anche da Mujica in Uruguay e da altri leader per effettivamente una sinistra come guida e riferimento strategico per la costruzione e l'affermazione dello stato di diritto in America Latina perché non è sempre stato così lo sappiamo ecco se qualcuno ha chi vuole io non chiamo per nome ma sollecito il pensiero dei nostri ospiti Roberto si è scritto vai sì brevissimo solo telegrafico perché non voglio rubare tempo a persone che hanno giustamente anche più più informazioni e hanno riflettuto più sul tema io credo che la risposta allora alla domanda di Dario è difficile perché in qualche modo richiede una specie di cambio anche di DNA c'è stato secondo me un movimento molto importante di riconfigurazione geopolitica nel periodo secondo mandato Lula e anzi direi primo mandato Dilma Rousseff che è stato quello di distinguere fra America Latina e Sud America mostrando che come dire in un qualche modo come dire era necessaria una rimappatura che situasse di più l'America del Sud a Sud pensando che per esempio il Messico che pure presenta una situazione a questo punto di vista interessante però appartenesse ad un altro contesto io credo che sul tema per esempio specifico del toccato da Marina del Mercosul qui ci sono due dei paesi che fanno parte dell'associazione che non hanno un governo di sinistra che sono l'Uruguay e il Paraguay ma che possono essere interessati ad un progetto secondo me qui il ruolo fondamentale ce l'ha l'Europa cioè ce l'ha l'Europa nell'esercitare una pressione perché l'associazione possa anche andare oltre sulla geografia diciamo così latino-americana ti posso interrompere su questo perché solo per dire che la rigidità con cui Bolsonaro non ha accettato di discutere sui temi ambientali ha dato l'alibi ad alcuni paesi europei che resistono per altre ragioni di coprirsi con una motivazione nobile ecco se viene meno quella questione anche le resistenze di alcuni nostri partner europei in qualche modo saranno costrette ad essere diciamo a cadere questa è una partita importante anche per noi sicuramente questo sicuramente io devo dire che comunque sulla geografia della sinistra latino-americana bisogna dire che c'è una forte eterogeneità Marina citava tre sinistre forse sono veramente tante prevale secondo me un tratto però più pragmatico che ideologico a parte le eccezioni che tutti sappiamo e questo secondo me è un elemento interessante cioè occorre partire prima della ricostruzione dal progetto quindi credo che si apra un momento molto interessante da seguire per la sinistra latino-americana un'ultimissima cosa credo sia molto importante anche con riferimento a quello che diceva Marina il ruolo del Brasile nei BRICS perché come dire è diversa la relazione con la Russia se a suggellarla è Bolsonaro o se è Lula cioè l'idea che citava appunto anche Vicente del non allineamento attivo che peraltro deriva da una categoria gramsciana quella della neutralità attiva e questo cambia completamente anche la composizione del BRICS e questo può avere effetti sulla geopolitica e sul multilateralismo estremamente importanti io lo spero estremamente importanti grazie professor Vecchi qualcun altro vuole aggiungere qualcosa su questo tema bene allora devo intanto ringraziare i relatori il pubblico che è rimasto quasi interamente sino a a quest'ora vi sono domande molto complesse anche che riguardano l'organizzazione delle forze politiche in particolare del PT il dibattito interno questioni di natura politico-sociale del Brasile che sarebbero occasione non di di un singolo webinar ma di seminari della durata del meno una settimana quindi mi scuso con chi ha posto queste questioni per il fatto che per evidenti ragioni non siamo in grado di affrontarle in questa sede non escludiamo di poterne far parte diciamo di portarle all'interno di un ragionamento per dibattiti futuri ringrazio di nuovo tutti ricordo che la registrazione di questo incontro è disponibile sarà disponibile nei prossimi giorni nell'account CESPI di Facebook e do appuntamento a tutti per le prossime iniziative del nostro istituto grazie e arrivederci grazie arrivederci arrivederci a tutti ciao ciao ciao